Con la scoperta dell'America furono importate in Italia le patate, i pomodori e il capitalismo. Con la scoperta della pecora furono portate in Abruzzo le costatelle, i cosciotti, la pecora alla cottora e gli spiedini. Gli arrosticini si chiamano, gli spiedini sono qui che tengono mezzo i peperò. E la pecora alla cottora e gli spiedini. Ancora, gli arrosticini. E gli arrosticini si narra che i pastori abruzzesi, non i cani, i pastori proprio, usassero punzecchiare le greggi con delle piccole lance di legno per condurle ai pascoli. Ma che sta a dire? Ma stai ubriaca, voce narrante? Un giorno, un pastore particolarmente ghiotto e maldestro punzecchiò con troppo vigore lo vino. E facemoci un bicchiere, va? Sì, sì, con lo vino ci va lo vino. Infilzando lo vino con troppo vigore, il pastore notò che era cosa buona e giusta e ripetè il gesto sotto gli occhi attoniti degli altri pastori e soprattutto delle altre pecore. Ma che sta a dire questo? In principio, lo spiedino, l'arrosticino, era costituito da un solo palo di quercia. Ma che quercia? Si chiamano cerque. Da un solo palo di cerqua e da un'unica pecora intiera. Sì, che sta a dire ora te lo spiego qui che sono gli arrosticini. Tu te ne va a fondo di vetica sopra il gran sasso, pigli uno zippito e ci infili 6-7 pezzi di carne. De pecora. De pecora, c'è di che ce la vuoi mettere? De cammello. E poi li metti sopra il fuoco, li coci bene, a tutti e due i lati, ci metti un po' di sale. Un po' di essere ruvido. Vabbè, insomma, ci metti il sale e sta a posto. Ci hai capito, voce narrante? Ah, e un'altra cosa, gli arrosticini se girano una volta sola. Mmm, deve essere delizioso. Mi è proprio venuta voglia di uno spiedino. Beh, mo basta, eh. Se chiamo arrosticino. Se non la finisci, le faccio fa la fine degli umontò. E ti assicuro, voce narrà, che non è una bella fine.